Qua da noi alla Marchesi Gondi abbiamo ampi spazi sia interni che all'aperto dove è possibile realizzare diverse tipologie di esperienze di degustazione con visite alla villa e alle cantine. Perché passare le strade da noi? Perché abbiamo un egretilismo con delle bellissime campagne che circondano delle bellissime campagne, una piscina dove uno può raggiungere la pace e il relax e allo stesso tempo può degustare e assaggiare le bellezze del nostro territorio uniche che sono riconosciute a livello mondiale da sempre.